C'è la capolista Entella, la sorpresa è questo avvio di campionato, ma una squadra esperta che lo scorso anno ha vinto alla grande il campionato di Serie C. C'è un allenatore in panchina molto esperto che risponde al nome di Roberto Boscaglia. Rispetto sì, ma assolutamente niente paura, ha detto Zauri in conferenza stappa, tra poco lo andremo ad ascoltare. Per quanto riguarda l'undici che sarà schierato presumibilmente domani, inizio ore 15, intanto Drudi sarà confermato all'affianco di Scognamiglio, o meglio, Drudi giocherà dal primo minuto perché era entrato in corso d'opera nella trasferta di Cosenza, proprio in sostituzione dell'infortunato Campagnaro, conferma per Vittorini nel ruolo di terzino destro. A centrocampo Palmiero, quattro settimane di stop, sarà rimpiazzato molto probabilmente da Castanosso, un po' come era successo nella parte finale del match di Cosenza. E poi davanti, attenzione, non c'è Tuminello, sei mesi di stop, ne ha parlato a lungo Zauri in conferenza stampa. Il favorito sembrerebbe Brunori, Brunori dunque favorito su Maniero, staremo naturalmente a vedere. Il Pescara ha un obiettivo, tre vittorie di fila, non accade dal 2015, ma Zauri ha parlato anche dell'aspetto del gioco. Bisogna migliorare, a me è piaciuto tantissimo, ha detto il tecnico pescarese, l'atteggiamento, lo spirito dimostrato dalla squadra a Cosenza, ma bisognerà fare necessariamente di più sul piano del gioco e della manovra. Ascoltiamo Zauri. Quando ti dicono che questa squadra vorrebbe cercare di giocare un po' meglio, è vero? D'accordo, assolutamente d'accordo. La partita di Cosenza ci ha dato tre punti, ma non è quello che vogliamo fare. Credo che sia un mistero, non ho mai... ho preso i tre punti, mi è piaciuto l'atteggiamento, l'ho detto poi chiaramente, l'atteggiamento, quello che vogliamo. Ma chiaro, se pensiamo di fare 30 partite così, ne vinciamo forse tre, quattro. Però mi pare evidente, e io sono d'accordo con te, che tu stai mettendo a posto molto la fase di non possesso, che era quella che ti dava qualche preoccupazione. Beh, insomma, la Serie B qui la vediamo da parecchio. Se vai troppo in avanti sbagli, se troppo indietro sbagli, è chiaro che la via di mezzo qualche volta ti dà una mano. È chiaro che dopo, in alcune partite, stai un po' più di là e a volte stai un po' più di qua. Però se pensi, ripeto, di fare solo una partita, non la porti a casa. Questa è una cosa normale. Ci puoi illustrare nel dettaglio le caratteristiche dell'Entella? Perché poi ti devo fare un'altra domanda. Fammi sapere. L'Entella è una squadra che ha gamba davanti. Quindi Mancosu, spesso, quando recuperano palla o quando impostano, non disdegnano l'attacco della profondità, anche diretto. Terzino, centrale, direttamente per Mancosu. Poi vengono sulla seconda palla con Schenetti, Morra stesso, le mezzere accompagnano. È una squadra molto solida. Oltre a giocare bene quando imposta, sa giocare bene anche di partenza. Quindi se gli lasci campo e è una squadra che ti può mettere in difficoltà, chiaramente i nuovi punti non sono assolutamente un caso. Quindi più o meno sono queste le caratteristiche. Diciamo che è una squadra quadrata che punta molto all'attacco degli spazi. Sì. Il recupero alto del pallone non esiste? Quello che ho visto io non mi sembra, ma domani farà un pressing ultraoffensivo. Però teoricamente è una squadra che ti concede il primo possesso, te lo concede. Cioè Brunori è la punta che attacca meglio la profondità. Quindi ti volevo chiedere se questa è una partita giusta per un attaccante del genere. È impossibile scegliere un giocatore per un tipo di partita. Magari la partita può dire qualcos'altro. Quindi se tu non l'hai preparata vai in difficoltà. Quindi noi bisogna un giocatore che sia forte. Ad interpretare tutte e due le fasi sono giocatori forti. Se ci avessi un giocatore scarso e uno forte, è chiaro che giocherebbe quello forte. È entrato Magnero domenica scorsa, quella prima è entrato Brunori. Entrambi hanno le stesse chance di giocare domani. Per caratteristiche, anche per situazione, è iniziata la grande. Sia nazionale che con noi. Quindi chiaramente è un'assenza che peserà molto. Chiaramente noi abbiamo qualcos'altro. Quindi sicuramente noi puntiamo molto su quelli che abbiamo. Inizialmente dicevamo che davanti era un reparto molto affollato. E per fortuna, diciamo oggi. Il discorso di svincolati è molto particolare. È chiaro che non c'è nemmeno un giocatore che dici è lì da prendere, prendiamolo, che ci può dare una mano. Non c'è secondo me un giocatore da prendere. Io non ho chiesto niente. Sulla carta, ti ripeto, sono sereno, sono sincero. Io sono contento di quelli che ho. Noi siamo contentissimi dei ragazzi che abbiamo. Abbiamo Tomminello, non c'è più. Faremo con i nostri, ma ci dispiace per le fortuna, come dicevamo prima. Però noi siamo contenti sia di Magnano e di Borrelli. È chiaro che dobbiamo fare per forza. Senza Tomminello, senza piangerci addosso. Non paga, a caso di me, piangere. Piangiamo purtroppo per Tomminello, per lui, ma non per Pescara. Noi siamo contenti e fiduciosi nei ragazzi che abbiamo, assolutamente.